ciao ciao sono mimmo il tuo video e tu chi sei no lascialo l'imbrago davide davide dove vieni da piacenza due passi dai una passeggiata ho capito che ti ha mandato da solo fa tutto lui da solo te lo sei sognato a chi lo dedichiamo sto lancetto lo dedichiamo a me a me è una decisione no la mamma così esatto bravo che le vado a tirare ok perfetto a chi te pare insomma sì a tutti ok 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 mmm ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Puoi uscire a sinistra. Come è andata? Benissimo. Sì, che sono un po' appannati. No, ho la testa grossa. Anche. Molto bello. Forte? Saluta il capo. No, ho la testa grossa. No, ho la testa grossa. No, ho la testa grossa. Grazie a tutti